Assessore, oggi in comune un campione veramente speciale che è stato premiato per il suo attaccamento alla nostra terra. Sì, era doveroso farlo, assolutamente. Un atto importante, simbolico, ma fondamentale per la nostra città, perché è un campione del mondo pluridecorato, con grandi risultati avuti, che ha dimostrato una grande amicizia, un grande attaccamento alla nostra città e alla nostra terra. Questo credo sia un dato importante, poiché un campione del mondo come Giorgio Di Centa, che è stato premiato oggi nella nostra città con un riconoscimento da parte della nostra terra, del nostro comune, credo che sia fondamentale per poterlo, anche portare in giro il nostro nome, il nome della nostra città. Questa è una cosa della quale io sono estremamente orgoglioso con tutta l'amministrazione e credo che oltretutto sia stato fatto in un momento importante, perché siamo veramente nei giorni clou dello sport, dove uniamo veramente il campionato nazionale di pallavolo al Palazzetto dello Sport, giornata dello sport al 29, domenica 29 al Parco Urbano e Imperia Tappe, che partirà già da quest'oggi. Pertanto credo che sia veramente l'inizio con una grande premiazione, con una grande persona, con un grande atleta. Giorgio, allora un premio che ti ha voluto tributare la città di Imperia, ormai qui sei quasi di casa. Sì, un grazie per questo pensiero, sì, era un po' di anni adesso che non ritornavo, ma sono ritornato veramente volentieri e qui si sta bene, dal clima, agli amici. Poi, visto che sono qua, farò queste tre giornate di gare, sia come allenamento, sia un po' come, diciamo, divertirmi e daffinare un po' e iniziare a fare dei veloci di corsa e riscoprire ancora di nuovo questa splendida città. Quindi i percorsi si addicono anche alla preparazione sportiva? Sì, sì, specialmente le prime due tappe che sono nell'immediato vicino a Imperia, ma sono molto tecniche, insomma, con sali e scendi, sono belle toste, quindi assomigliano un po' a quello che ho anche io a casa. Poi l'ultima giornata è sul mare, splendida, si corre nel porto, è molto bello. Willis Tua, quest'anno a Imperia Tappe abbiamo anche un altro campione di altissimo livello. Eh sì, abbiamo Piuktadei, l'amico che già ha due anni, forse, che gli dico di venire a Imperia, finalmente sono riuscito a conquistarlo quest'anno, dai, ma penso che gli sia piaciuta, già del primo impatto, non so, prova a chiederlo. Ricordiamo un attimo i suoi grandi successi. Ebbè, diciamo che nel 2015 praticamente è stata l'esplosione, perché ha vinto il campionato del mondo, il campionato europeo e il campionato italiano di Sky Running. Quest'anno ha cominciato molto bene, penso anche in Cina, perché è arrivato secondo una gara internazionale di 42 chilometri, che partiva dai 2.900 metri e si scolinava a 4.700. Ha messo, penso, tre ore, tre ore e dieci, no? Mi sembra una cosa del genere, dunque è veramente molto, molto forte. E allora adesso a correre qui a Imperia? Sì, quest'anno finalmente sono riuscito ad arrivare, gli altri anni mi aveva già invitato Willy, però avevo sempre in concomitanza con altre gare. Quest'anno sono riuscito ad avere la settimana libera e ho approfittato per venire a visitare questa città dove non ero mai stato. Dopo questi grandi successi come proseguirà la tua stagione? Ma dopo questa gara farò un due settimane un po' di recupero, per poi buttarmi di nuovo nel campionato italiano, la prova unica in Friuli vicino casa e la settimana seguente la terza prova di Coppa del Mondo.